di superare david e non c'è niente che io posso fare quando sto bene e quando dico male quando cammino solo nel portiere quando ti vedo attraverso me chiede che assomiglia una rivoluzione ad un segreto che non si può dire ad un porto dopo l'esplosione ad un reato senza punizione ad un porto dopo l'esplosione ad un porto dopo l'esplosione